Ancora lavori viari in vista a Modica, dove anche nei mesi passati l'amministrazione ha avviato interventi per la messa in sicurezza di diverse arterie urbane, come ad esempio la riasfaltatura di strade di Modica Alta e Alla Sorda. Adesso il comune di Modica è risultato vincitore di un bando nazionale per ottenere il finanziamento di tre importanti opere viarie. Le opere in questione sono l'allargamento e la messa in sicurezza di via Boccone del Povero, la messa in sicurezza del quartiere attorno via Muzio Scevola, compresa la realizzazione della stradina di collegamento tra la via e la piscina comunale, l'allargamento e la messa in sicurezza della via Torre Cannata a Michelica. La montare complessivo delle opere è di 248 mila euro. Un ottimo risultato, commenta il sindaco Ignazio Abate, perché parliamo di tre vie molto trafficate, la cui struttura ormai non è adatta alla mole di auto che la attraversano giornalmente. I residenti di queste zone ci avevano richiesto da tempo interventi mirati in questa direzione. Penso all'allargamento di via Boccone del Povero e della via Torre Cannata a Michelica, che spesso sono stati il teatro di incidenti proprio a causa della larghezza risicata. O ancora a via Muzio Scevola, che rappresenterà un'importante alternativa al via Sacro Cuore per raggiungere la zona della piscina comunale. Un'iter seguito da vicino dall'amministrazione comunale al fine di chiudere il prima possibile la registrazione sulla piattaforma accreditata per poter espletare la gara per l'affidamento ai tecnici per la progettazione di queste importanti opere viarie strategiche per la città.